Buongiorno, sono così felice che tu sia venuto. Onestamente non mi aspettavo che lo facessi davvero. No, certo che siamo amici. E sì, so che gli amici si prendono cura l'uno dell'altro. Anche se mi piacerebbe che fossimo più di amici. Oh, come posso trovare la forza per dirglielo? Oh, no, non preoccuparti. Stavo solo pensando a delle sciocchezze, come faccio sempre. Non preoccuparti. Che ne dici se cominciamo a incamminarci per andare a scuola? Perderemo l'autobus e non ci sbrighiamo. Ok. Oh, sono così nervosa. È così bello oggi, ma... Se mi ridesse in faccia? Non so... Cosa faccio? Eh? Cosa? Oh, mi dispiace. Il mio biglietto è proprio qui. Grazie. Non l'avevo notato. Stavo per fare la figura dell'idiota, vero? Che imbarazzo. Grazie per avermi salvata. Non è nemmeno la prima volta che lo fai. Tu... Ricordi quando siamo andati a quella partita l'anno scorso? Non riuscivo a dire una sola parola al venditore di biglietti. E tu mi hai aiutata a comprare il mio biglietto. Ti ero così grata. Ma tu dici sempre che non è niente, quindi... Immagino che salvare le persone dall'imbarazzo sia di routine per te. Giusto? Non è così facile per me, però... Parli in modo così sicuro. Hai davvero un talento con le persone. Vorrei avere più sicurezza. O almeno... Meno goffaggine. Oh! Siamo arrivati! Suppongo che dovremmo andare alle nostre lezioni ora. Giusto? Bene! Ci vedremo più tardi allora. Giusto? Ascolta... C'è qualcosa di importante che devo dirti. Vedi? Si tratta di... Lascia perdere. Te lo dirò a pranzo. Possiamo mangiare... Insieme? Grazie. Suppongo che dovremmo andare adesso. Ci vediamo dopo. Oh, perché? È così imbarazzante. Devo darmi forza. Dai, posso farlo? Ehi! Ti stavo aspettando. Non capisco. Perché vuoi sapere per quanto tempo? Ah... No, no... Ecco... Ti ho aspettato per... 20 minuti. No, non è un problema. Non preoccuparti. Più che altro... Il punto è che... Ecco... Ho fatto qualcosa per te. Ho cucinato un po'. Ho fatto i biscotti. Spero che ti piacciono. Vuoi provarli? Ok. Per favore, dimmi che ti piacciono. Potrei morire di vergogna se dicessi che non sono buoni. Oh no. Forse ho aggiunto troppo zucchero. Devo chiederglielo. Allora... Ti... Ti sono piaciuti? Davvero? Grazie. Non pensavo fossero granché, ma... Io... Non importa. Non avrei mai... Eh? Tu... Hai sempre sospettato che fossi una buona cuoca? Oh cielo, cielo... Sta succedendo davvero? Mi sta lodando? Devo ringraziarlo e... E devo dirgli la verità. Ora. Grazie. Nooo! Cosa c'è di sbagliato in me? Perché non posso dirlo? Andiamo. Vuoi... Sederti qua? Io... Penso che dovremmo iniziare. Ok. Quando ci sediamo, gli dirò tutto dei miei sentimenti. Quando saremo lì, seduti e rilassati. Allora, non ci sarà nulla che possa fermarmi. Glielo dirò e vivremo per sempre felici e contenti. Credi in te stessa, ragazza. Andiamo. Potresti... Potresti... Passarmi l'acqua? Oh, andiamo. Perché devo esitare adesso? Ok, non è un problema. C'è ancora la passeggiata a casa dopo la scuola. Glielo dirò mentre camminiamo. E poi... Non dovrò più preoccuparmene. Grazie. Ci vediamo dopo. Ciao. Ok. Questa volta la mia timidezza non sarà un ostacolo. Lo supererò. So che posso. No, devo farlo prima che un'altra ragazza trovi l'opportunità di conquistare il suo cuore. Non potrei supportarlo se lo perdessi a causa di questa stupida debolezza. Andiamo. Dov'è? E se fosse già con un'altra ragazza? E se non mi avesse parlato di lei perché voleva che fosse una sorpresa? E se avesse nascosto la relazione perché non voleva ferirmi? Sto per esplodere. Devo vederlo. Devo dirgli la verità. Ah, eccolo. Ed è... È solo. Ok. Respiri profondi. Posso farlo. Ciao. Andiamo a casa a piedi come sempre. Ok, è stato semplice. Aspetta. Cosa? Tu hai chiesto al tuo amico di portarci a casa? È fantastico. Non dovremmo camminare. No, non questa volta. Devo avere coraggio e dirglielo. In realtà possiamo camminare invece. Per favore, io ho bisogno di dirti qualcosa di importante. Solo che... Vieni con me, per favore. Ok. Ti aspetterò qui. Oh, è così emozionante. Posso controllarmi? Posso farlo? Oh cielo. Ha delle spalle così belle. È così affascinante. Ah, sì, sono ancora qui. Andiamo? Quindi è stata una bella giornata, vero? Il tempo era bello. Ecco, diritto al punto. Ho pensato molto alla nostra amicizia, sai? Voglio dire, nel senso che voglio... Voglio ricordare tutto. Da quando tutto è iniziato, ecco. Ricordi quando ci siamo incontrati la prima volta? Era... Era in una biblioteca. Era l'unico posto in cui volessi davvero restare. Eppure... Eri lì. Con me. Non sono mai stata brava con le persone. Non ti avevo nemmeno notato. Mai fatto qualcosa che nessuno aveva mai fatto? Tu hai parlato con me. La ragazza timida seduta nella sua zona sicura leggendo un libro. Mi hai chiesto perché fossi così interessata ad orgoglio e pregiudizio. Lo stavi leggendo, ma ti eri fermato. Ricordi? Era la prima volta che potevo parlare di qualcosa a cui ero interessata con qualcuno a cui interessava quello che dicevo. Eri diverso, sai. Sentivo... Sentivo qualcosa in te. Qualcosa che mi piaceva. È così che abbiamo iniziato a uscire insieme. E abbiamo continuato a farlo. Parlare dei nostri interessi. Passare il... Il tempo insieme. Fermiamoci qui. So che ti stai chiedendo perché volevo parlarti con così tanta insistenza oggi. Ho perso tempo fino ad ora. Ad aspettare il momento giusto per dirtelo. Questo è tutto. Basta temporeggiare. Glielo dico. Io... È tutto a posto. Un respiro profondo. Io... Io... Posso farlo. Ora. Ti amo. Ci ho pensato. I nostri sentimenti non sono solo un'amicizia. Sono... Sentimenti... D'amore. Oh, così penso. Io... Io... Te l'ho detto. Mi fai sentire felice. E... Ora... Anche se ti perderò come amico... Era necessario che te lo dicessi. Per favore... Accetta i miei sentimenti. Mi sta davvero dicendo... Che... Io... Tu... Tu... Mi ami... Anche tu? Grazie. 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 Io... Io ti amo. Ti amo. E voglio passare tutta la mia vita con te. Posso... Sai... Io... Questo... Era... Meraviglioso. Resta qui. Abbracciami. Ti amo. Ti amo.